ho pensato che con questa faccia dovevo fare qualcosa di importante non solo per me ma per tante tante persone ho deciso di fare il market comedy record perché nelle marche abbiamo bisogno di record perché le marche è una regione da record e perché poi io sono un uomo da record è un progetto ambizioso per massimo è un grande attore comico e sulla resistenza fisica che ho qualche dubbio ecco 12 ore di spettacolo sono veramente tante beh è una sfida una sfida interessante è qualcosa che va oltre oltre il normale spettacolo 12 ore consecutive sono una cosa veramente eccezionale affrontare un record è oggi come oggi per me è una cosa importante perché diciamo fino adesso non ho fatto un cazzo stare su un palco per 12 ore fa avverare un fenomeno particolarissimo in cui non si capirà più dove inizia l'attore e finisce la persona e viceversa io credo che il massimo dolly bomba riuscirà a fare 12 ore di sketch continui anche perché la sua vita è uno sketch anche se dormisse 12 ore io sono sicuro che il pubblico riderebbe oggi più che mai nelle marche c'è bisogno di record cioè di essere al massimo di noi stessi di superare i nostri limiti la tragedia come come cittadini marchigiani come uomini che abbiamo recentemente patito ci ha messo di fronte ai nostri limiti e quindi abbiamo bisogno di superarli il record significa proprio questo diventare più forti laddove pensavamo di non esistere più io voglio dire una cosa chiara non ho deciso un giorno di fare il comico e di far ridere la gente io scemo ci sono nato no no no